Solofra ha aperto i battenti il lab vaccinale riservato al personale delle aziende del distretto Conciario e della vicina a Montoro. Il punto, nato dalla collaborazione tra Confindustria, l'Asle e le organizzazioni sindacali, è stato visitato anche dal direttore generale dell'Asle Avellino, Maria Morgante. Mille le dosi programmate. All'inizio pensavamo sui 2000, perché la pratica è cominciata già una ventina di giorni fa. Poi mano a mano ci sono stati gli open day, adesso un migliaio circa. Che tipo di vaccino viene somministrato? Il Moderna, perché è un vaccino di facile somministrazione che dà pochi effetti collaterali come sappiamo, con l'utilizzo dell'MRNA. Noi abbiamo un calendario con delle convocazioni che vengono concordate con l'azienda, quindi ci saranno delle convocazioni giornaliere e io credo che continueremo almeno per 7-10 giorni.